E' tutto quel che volete, è ora che ci sia un'indicazione precisa. Io sono straconvinto che faranno per il meglio. Mi auguro proprio che non siano condizionati da degli argomenti che fanno veramente... Si potrebbe dire ridere, ma non è lo scenario per ridere, perché qui non si scherza su una cosa così. Quindi adesso il governo deve prendere le sue decisioni in modo che la gente sappia anche come deve comportarsi. Io dico che quando hai 28-29 milioni di certificati sei molto avanti con i lavori. E quindi devi porti il problema di come li usi. Minzolini e poi torniamo davanti alla camera con Luca Sappino. Direttore, dice Bersani, Draghi ci deve mettere la faccia. Cioè è lui che in questo caso, come ha fatto per la verità anche altre volte, e non solo speranza. Posso interrompere. Si diceva, Conte si diceva che parlava troppo. Può anche essere vero. Ce la metteva tutte le serie. Dai, io senza proprio Iraq studio, facciamo una via di mezzo, via. Facciamo una via di mezzo, no? Dai. Però alle volte, come diceva Shakespeare, il silenzio è presente.